Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo I compagni di viaggio. Spero dopo la condividerete a tutti e farete iscrivere tutti i vostri amici al mio canale YouTube Savinotesse attivando la campanellina delle notifiche. Considerazioni sulla poesia. Bisogna saper scegliere degnamente la gente umile e concreta. Qual è bellezza migliore? Avere un amico fidato che è umile, sa riconoscere i propri errori, sa donarci molto ed è concreto e una persona di parole pratiche e non di fatti astratti. Quindi se sapremo scegliere degnamente nella nostra vita un amico vero avremmo fatto più dell'opera. Molto più dell'opera che ci eravamo prefissati. Quindi un amico magari saggio e fedele che è costante nelle sue cose saprà rallegrarci, ravvivarci ogni giorno e donarci un animo fedele, donarci un cuore grandioso. Dobbiamo saper creare amicizie vive e vere e con loro percorrere strade sicure, essere nel giusto contesto ogni giorno ed avere un sacro atteggiamento degno di attenzione a tutte le cose. I compagni di viaggio sono quelli che poi rimarranno sempre nella nostra memoria. Non dimenticheremo mai i loro gesti e saranno per noi sempre vicini e unici. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo I compagni di viaggio. Sappiate scegliere degnamente la gente umile e concreta, saggia, fedele e con vero zelo costante, vi offra un giusto rispetto nella vita. Sappiate creare amicizie vive, vere e sincere, che vi offrano le sacre maestranze e tante fedeli attese. I vostri compagni di viaggio siano a voi di aiuto per creare un degno contesto fatto di sacro atteggiamento. Siano per voi luce ricca di santa costanza per ogni degna e vera attenzione fatta di rispetto e saggezza. Grazie e spero la condividerete a tutti. Arrivederci.